Quest'anno Toscana in bocca sotto un altro nome perché il Caffè Biondi sarà, saremo noi a partecipare per il Caffè Biondi a questo evento che anche l'anno scorso ci ha visto partecipi e portiamo altri due piatti della tradizione toscana, due dessert come sempre e sono una torta di riso, classica toscana quindi, e una crema cotta alla fiorentina con croccante di mandorle e una riduzione di vincanto. Abbiamo scelto questi piatti perché pensiamo che anche la zona di Pistoia, Firenze abbia tantissimi dessert da valorizzare e abbiamo cercato un pochino di rivisitarli e renderli un pochino più nostri e quindi proponiamo queste due alternative diciamo. Allora ci vediamo alla Toscana in bocca, grazie a tutti, a presto, ciao! 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 Ciao!